segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una proposta credo che questa rete così come jazz sky potrebbe seguire la diretta del divorzio perché la vogliamo ma così come c'è stata una sontuosissima diretta c'è poco da ridere cari amiche e cari amici del matrimonio la diretta del divorzio e lui in questo momento ma bisogna vedere se mettono le telecamere all'interno credo che ci vadano quantomeno una festa come quella che abbiamo visto con quella scena elegantissima dei tovaglioli sbandierati la festa del divorzio dove lui mostra le è un provocatore è un provocatore lui in questo momento perdonami è un pensionato pubblico perché la ferita più grande è quando gli hanno tolto il pallone sperava in una figura perennemente accudente tutti i rapporti si interrompono tutti noi tradiamo la persona che abbiamo promesso amore me compreso a las vegas insomma e quindi comprendi bene che a questo punto la roba non deve interessarci noi dobbiamo pretendere da loro verità e fino adesso totti ce l'ha data melissa grazie a tutti grazie a tutti